Buonasera a voi tutti, questa sera siamo nuovamente ospiti del comune di Martignacco, vicino a me è l'assessore della cultura Gianni Nocent, siamo al terzo appuntamento con Mauro Tonino, presenteremo questa sera la sua terza opera, è un'opera un po' particolare, il suo titolo è Rossa Terra, perché Rossa Terra poi lo scopriremo strada facendo, posso solo dire che questo volume di Mauro è un volume che si introduce in punta di piedi e in un argomento molto difficile, molto pesante della nostra storia europea. Mauro sfoglia con delicatezza delle pagine terribili di storia che hanno coinvolto i nostri popoli vicini dell'Istria, vicino a me c'è l'assessore Gianni Nocent che ci dirà anche gli ospiti che sono stasera, perché sono veramente molti e va un ringraziamento particolare da parte mia Gianni, perché è un assessore estremamente sensibile, preparato e coglie sempre degli attimi particolari della nostra cultura traendone la massima efficacia e lo ringrazio. Grazie, io devo veramente, sono imbarazzato per le bellissime parole che mi hai dato, ma io ritengo che il valore di Mauro Tonino parli da solo, il compito di ogni assessore è quello di valorizzare al meglio quelle che sono le risorse del territorio e Mauro Tonino lo è. Stasera, come diceva Maura, è una serata molto particolare, veramente molto attenta a quello che è un problema abbastanza sensibile per il nostro territorio. Mi riferisco alla commemorazione della giornata del ricordo, Rossa Terra si inserisce e si incastra in una maniera perfetta, perché parla di nostri concittadini, sia scrittori, sia autori, sia anche testimoni e interpreti del romanzo stesso. Stasera è una serata molto particolare, così come vuole la tradizione del nostro comune, ovvero partecipare a queste ricorrenze in maniera diversa, in maniera meno ossessiva e meno oppressiva, in una maniera dolce, lieve, come giustamente ha sottolineato prima Maura, e che affronti il problema lasciando una traccia di sensibilità e una traccia anche di futuro e di monito per le nostre nuove generazioni. Stasera affronteremo questo problema, che è il problema del confine orientale, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha causato una migrazione forte con delle tragedie importanti, lo affronteremo con dei personaggi veramente d'eccezione. Accanto a Mauro Tonino avremo anche Giorgio Gorlato, che è un esule istriano, anzi oserei dire il Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi, Giorgio Gorlato, scusate se è poco. Poi avremo anche Beppe Liani, direi tre, avremo anche Antonio Rinaldi, caporedattore del Messaggero Veneto e avremo anche un momento artistico, cioè avremo anche l'autrice, la pittrice di queste tavole che arricchiscono questo volume assai bello, assai significativo anche per la nostra comunità e che lascia un messaggio positivo e propositivo alle nuove generazioni. Grazie. Grazie infinite Assessore. Come ha già annunciato anche l'assessore Nocce, vediamo dietro di noi e poi in maniera più dettagliata delle tavole stupende disegnate da Marina Toffolo che ha colto lo spirito e l'anima di questo libro e l'ha tradotto con un tratto molto leggero di matita o di china. vicino a me invece c'è Mauro e Mauro sintetizzerà veramente in due parole quello che è il contenuto del libro. Io ringrazio Mauro e lo sentiamo. Grazie all'editore che ha creduto in questo progetto editoriale che ci ha permesso di fare questo splendido libro. Dico splendido perché già i primi commenti sono a parte di alcuni commoventi ma sicuramente molto positivi. Il libro è un romanzo storico, è una storia, non è un libro di storia, nel senso che narra attraverso un percorso libero narrativo che è un viaggio in barcavela di nonno e nipote lungo le coste dell'Istria, narra delle vicende che sono molto drammatiche per certi aspetti nascosti e oscure di quello che è stato l'esodo giuliano. E quindi tutto il narrato passa attraverso il rapporto fra nonno e nipote dove il nipote incalza il nonno nel raccontare quello che è stato il suo vissuto drammatico. Una storia che a mio avviso meritava di essere raccontata perché tratta tutto quello che è stato il periodo dall'8 settembre del 43 fino ai primi anni 50 in Istria. Grazie Mauro e quindi ci accingiamo ad ascoltare il tuo racconto e i nostri ospiti. Grazie infinite. Quindi ora vicino a me c'è la Marina Toffolo come ho già annunciato prima e chiedo a Marina come sono nate queste tavole e soprattutto perché ha accettato di illustrare questo volume che in realtà è così difficile. Il libro tratta di un argomento veramente molto difficile, molto impegnativo, però nasce dall'impegno doveroso di testimoniare la storia, una particolare storia della nostra umanità che purtroppo si ripete. Quindi l'impegno che mi sono presa è cercare di contribuire a quello che è una testimonianza di accadimenti che dovrebbero insegnarci ad essere più accorti e non ripetere. Il libro è estremamente rispettoso di quello che è la storia personale dei protagonisti, di tutti i protagonisti. Noi qua in Friuli abbiamo diverse testimonianze, in quasi tutte le famiglie abbiamo comunque avuto degli esuli e quindi questa situazione in particolare la viviamo casa per casa. Questo libro testimonia una delicatezza e un desiderio molto positivo di raccontare ma di fare storia, di andare oltre, di avere speranza, di fare di meglio. Grazie, grazie infinite Marina e grazie per la tua opera.